Oggi ci occupiamo di Wonderful Italy, una realtà consolidata nel mondo del turismo italiano. Wonderful Italy è un'agenzia per case vacanze con una storia molto particolare e un obiettivo molto chiaro. È nata infatti grazie ad Ultra Impact, che si occupa di investimenti per l'impatto sociale in Italia. Vuoi sapere il meglio di Wonderful Italy? Beh, il meglio è che vuole farci conoscere tutte le meraviglie dell'Italia e non solo i posti turistici. Infatti, vogliono farci vedere che l'Italia non è solo Roma, Firenze o Venezia. Ci sono tanti altri posti bellissimi da scoprire. Ma chi sono i loro clienti? Solitamente sono famiglie o coppie che cercano le vacanze perfette nella bellissima Italia, ma lavorano anche con gruppi per eventi aziendali. Oggi parliamo con Karin Benneri e Chiara Ronchini. Lavorando per Avantio e a stretto contatto con loro, conosco perfettamente il buonissimo lavoro che fa Wonderful Italy. Pertanto, ho tante domande per voi oggi. Qual è la posizione della vostra azienda nel mercato attuale e come si è evoluta invece negli ultimi anni? A Wonderful Italy si posiziona tra i primi property manager italiani. Se poi parliamo di posizionamento è abbastanza unico perché non siamo solo property manager, ma offriamo anche experience. Questo perché è in linea con il nostro obiettivo di far scoprire le meraviglie dell'Italia. Quindi non solo vivere la casa, ma anche vivere il territorio attraverso appunto le experience. La nostra crescita è cambiata notevolmente, nel senso che inizialmente noi puntavamo su un imprenditore, lo aiutavamo a costruire il business dell'extraverriero. Adesso abbiamo mirato su una strategia più aggressiva, se vogliamo, più efficace, che è quella di individuare un cavallo, quindi un property manager, già consolidato in un territorio e quindi investire su questo unico property manager e aiutarlo ovviamente a svilupparsi. Quindi questo è quello che ci permetterà poi di arrivare al nostro obiettivo che sono 3.000 case. Che cosa apprezzate di più di Avantio ad oggi? Allora sicuramente il punto più forte per noi è il channel, sia in termini di ampiezza dei canali e quindi sicuramente il fatto che con proattività Avantio continua a ampliare il numero di canali con cui è connesso e ci permette di connetterci, ma anche proprio in termini di qualità dell'integrazione, quindi uno dei motivi per cui lo abbiamo scelto, per cui lavora costantemente per migliorare le integrazioni anche con i portali con cui è già integrato. Sicuramente c'è anche un tema di crescita insieme, di lavoro con le persone, quindi Avanzi ci capisce nelle nostre necessità ed è sempre importante per gli sviluppi e per business che sicuramente sono sfidanti e necessitano di una scalabilità. Invece in termini numerici, in che modo Avantio vi ha aiutato a crescere? Allora diciamo che quando abbiamo iniziato a lavorare con Avanzi avevamo 80 alloggi e ad oggi ne abbiamo 1300, un po' come prevedeva il nostro modello di business, quindi possiamo dire che siamo sicuramente cresciuti insieme e forse una crescita così importante è fondamentale avere un partner che ci aiuta a automatizzare i processi e avere delle integrazioni sicuramente fatte bene con tutti i portali e la distribuzione, quindi mi sento di dire che siamo cresciuti molto ma siamo cresciuti effettivamente insieme. Il lavoro di Wonderful Italy e di Avanti Insieme e il mix di patrimonio storico e tecnologia aiuta non solo a crescere l'azienda, questo è sicuramente un verbo in memoria del fatto che l'innovazione può andare a braccetto con la storia e la cultura del nostro meraviglioso paese. Io vi ringrazio per averci seguiti e ci vediamo alla prossima. Ciao!